I governatori d'Italia non se la passano molto bene, è il risponso delle pagelle pubblicate sul quotidiano Il Sole 24 Ore. L'unico a mantenere le posizioni, anzi a superare il consenso di 5 anni fa, quando fu eletto presidente della Regione Veneto, è Giancarlo Galan, passato dal 54 al 56%. Ma veniamo in Puglia, dove il governatore Nichi Vendola rispetto al 2005 perde due punti percentuali, passa infatti dal 49,8 al 47%, in quattordicesima posizione. Pagelle ha anche i presidenti di provincia, il primo pugliese in classifica è quello di Brindisi, Massimo Ferrarese, che ottiene la 37esima posizione. Taranto e Foggia si attestano al 76esimo posto. Lecce, con Antonio Gabellone, guadagna la 93esima posizione. Ultimo invece è il presidente della provincia di Bari, Francesco Schittulli, che ottiene il 97esimo posto in classifica su 107 province. In Puglia va un po' meglio per i sindaci, il primo cittadino di Bari, Michele Emiliano, è 23esimo in classifica, ma non è il miglior classificato, perché a sorpresa è ampiamente superato dai Pazio Stefano, sindaco di Taranto, in settima posizione. E Nicola Maffei, sempre centrosinistra, primo cittadino di Barletta, che ottiene un inaspettato nono posto. Al 50esimo posto troviamo invece il sindaco di Foggia, al 73esimo i primi cittadini di Brindisi e Lecce, Menniti e Perrone.